Sì, andiamo con il prossimo concorrente, Lucia! Ciao Lucia, sta diventando bravo anche il mio balletto, dai, stai parlando, bravo Marto! Lucia, quanti anni hai tu? Parla pure lì. 13. E da dove vi ho? Cosa ci campi? Maestro, la tua ragazza sempre ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Musica, maestro! Musica, maestro! Musica, maestro! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.